Padre Pio, costruttore di misericordia. In un nuovo DVD, la storia del santo di Pietrelcina, assieme entusiasmante e tormentata, nella quale a lungo si mescolarono il favore del popolo e i dubbi della Chiesa. Prodotto dal Centro Televisivo Vaticano, in collaborazione con Officina della Comunicazione e la provincia di Sant'Angelo e Padre Pio dei frati minori Capuccini, il DVD ripercorre la biografia del santo, visitando i luoghi e ascoltando le persone che lo conobbero, arricchendo il lavoro con preziosi filmati d'epoca. Il risultato è un ritratto di Padre Pio inedito e attuale, soprattutto nell'anno santo della misericordia. Nel documentario con la regia di Cesare Cuppone e la voce narrante di Francesco Pannofino, presentato oggi presso la Filmoteca Vaticana da Monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione, prendono la parola numerosi esperti, tra cui padre Marco Ivan Rupnik, artista e teologo, autore dei mosaici della chiesa inferiore intitolata San Pio a San Giovanni Rotondo e fra Francesco Di Leo, rettore del santuario della medesima località pugliese.